La mia gioventù è oggi passata a mezza via. E' passata bene, fino a che mia mamma si viva, si andava bene, dopo è morta mia mamma e la fada ne è scambiata. Non posso dire che sono sempre stato bene, a parte le condizioni familiari, ma se no sono sempre stato bene, sono sempre stato accettato nel mondo. Come il spirito di prima, quantun che ci aiutava un poco tra noi, soprattutto in famiglia. Io andavo in mezzia, dormivo sulla giuola, andavo con un sacco di cose, di pedi di danone. E dormivo bene, ero bene, contento di essere qui. Non c'è bisogno di un letto anche io in sole, ce n'ho mica bisogno. E' così. Ancora, quando ricreto un poco che i corsi non sono mica abbastanza cosa, finalmente non c'è più niente che parla di tanto corso. Ancora, quando facciamo la politica, parla di più francese che a corso. E questo è una disgrazia. Posta che c'è una lingua che l'ho imparata alla scuola e tutto sa fare qui, e dopo ci troviamo e non parliamo più. Allora, vale per niente se a fare qui. C'è una vera da qui, voilà. Per la cosa che fa di oricata, è difficile di oricata perché i semi di luoghi sono bellissimi e sono stranieri che ne provetano più che noi. e questo è un po' come deve. A Corsica dei Domani mi pare che si può fare l'affare, se si mette nell'accordo un po' perché c'è anche queste storie di politica e tutto. Non si sa mica come lo si passa. E qua, per esempio, le cose non sono mica troppo nette. in questo momento qui. E non c'è una mia amica che non ricominciasse ciò che non abbiamo fatto senza qua, che è la forza necessaria. Ma qua non c'è una mia amica ricominciata a presa a me. E beh, di sta a Corsi, ma non mi capire più vuole essere più che a Corsi. A Corsi. A Corsi. Grazie a tutti